Perfetto, aggiorniamo la pagina e oh mio Dio, oh mio Dio, guardate quante notifiche! Il mio personaggio, soprattutto su YouTube, si è sempre basato su Fortnite e sui videogiochi, ma c'è una passione che nessuno di voi conosce, che per me è il calcio. Infatti oltre ad essere un super tifoso dell'Inter, ragazzi, sono un appassionato di calcio ed oggi mi è venuta la brillante idea di aprire una pagina TikTok che parli di calcio, in cui posso fare live di calcio, in cui posso provare a guadagnare dei soldi effettivamente, quindi magari, che ne so, attraverso la vendita di maie, attraverso delle live in cui la gente può donarti o farti dei regali, ecco, il problema è solo uno, non ho un account TikTok. Quindi andiamo a creare un profilo TikTok e proviamo a portarlo in qualche modo, non so come, a mille follower per riuscire a fare delle dirette e provare a guadagnare, quindi con TikTok. Devo andare a creare prima un account. Ok, abbiamo creato l'account, quindi passiamo da Lollopollo a Lollopollo Calcio, ragazzi, eccoci qua nel nostro nuovo account, il problema, abbiamo zero follower. Però ho già caricato un video, ragazzi, perché il mio obiettivo è andare virale gratis, ma non sta funzionando, abbiamo solamente 20 visual e un mi piace. Stiamo facendo un po' schifo, ok? Abbiamo zero follower ancora, abbiamo un profilo orribile. Quindi devo ingegnarmi che cosa può fare uno per farsi seguire. Una tattica probabilmente potrebbe essere quella di andare nei per te, lasciare un mi piace, andare a vedere i commenti, mettere mi piace ai commenti, seguire le persone che, appunto, hanno scritto questi commenti sulle pagine a cui siamo interessati. Ma anche questa, ragazzi, mi sembra una tattica che davvero funziona molto lentamente e non è poi così bella. Sono abbastanza sicuro che dovrò ricorrere a una soluzione estrema, ossia comprare i miei follower. Il problema qual è? Prima cosa non è in italiano, quindi per qualsiasi cosa avrei paura a comprarli, sinceramente. Ma poi non mi fanno manco vedere il prezzo questi. Attenzione però, perché questo sito si chiama Fast Media, ok? In più è italiano, ci sono degli screen. Buongiorno, grazie mille, sono a più di 11.000. Sembra anche funzionare. Allora, è anche un'azienda verificata e ha 5 stelle quasi. Andiamo a vedere subito. No, fermi tutti. Ho trovato il modo. Signori, potremmo avere un attimo bypassato il fatto di fare le cose gratis, ok? Ma non mi interessa, nessuno lo scopre se non glielo diciamo. Guardate qua, ha 265 recensioni positive, 4,8 stelle, un punteggio eccellente su Trustpilot. Fermi tutti, dobbiamo andare assolutamente a vedere che cosa posso comprare in questo sito. pacchetti, ok? C'è una sezione chiamata pacchetti e attenzione, c'è TikTok, meno male. Attenzione, guardate qui a destra, infatti, possiamo comprare dei pacchetti di TikTok. Questo è molto interessante. Ragazzi, ragazzi, non è vero. Ragazzi, guardate le notifiche, stanno esplodendo. Ragazzi, sta esplodendo il mio account. Sì, tra l'altro costava 120 euro, adesso costa 29. C'è anche Instagram da quello che vedo. Facebook, Twitter, Twitch. Ma c'è di tutto, regà, su sto sito. Però a noi oggi interessano i follower di TikTok. TikTok, andiamo a vedere. Andiamo a vedere subito i follower di TikTok. Real follower TikTok, quindi sono veri. Ok, abbiamo 100.000, 5.000 e 10.000. Ok, 1.000 follower, 29 euro. Però se non sbaglio io ho visto un'offerta prima. Fermi, calmi, calmi, capiamo. Pacchetto viral, 29 euro. Ok, e abbiamo esattamente 2.000 follower. Quindi il doppio dell'offerta di prima. 2.000 like e 10.000 visual. Ok, però io prima di fare un acquisto del genere, prima di spendere 30 euro, voglio effettivamente avere una prova che questi, oltre ad avere un sacco di recensioni super positive, quindi già in realtà potrei comprare senza pensarci. Voglio vedere se hanno un'assistenza. Ok, c'è la chat su WhatsApp, ragazzi. C'è la chat su WhatsApp. Quindi qualsiasi cosa succede posso scrivere direttamente a loro, sia su WhatsApp, sia su email e ovunque. Ok, adesso mi sento molto più tranquillo e posso comprarlo praticamente subito. E tra l'altro vi lascerò il link in descrizione nel primo commento di Fast Media per acquistare i vostri follower e aumentare nei social anche voi. In maniera completamente sicura, tra l'altro, e ad un prezzo super basso. Quindi, raga, link in descrizione se volete provare a crescere sui social. Quindi, che cosa bisogna fare adesso? Semplicemente inserire il link pubblico del nostro profilo TikTok all'interno di questo riguadrino bianco che vedete qui. Una volta che avete inserito il link, lo aggiungete al carrello. Mettete il codice LOLO10 perché avrete pure il 10% di sconto, raga. E' folle? Oh, qua dietro ce sto io intanto. Una volta inserito quindi il vostro link all'interno di questo spazio bianco, non vi resterà altro che cliccare aggiungere il carrello. Una volta che l'avete fatto, ovviamente, vi troverete in questa pagina, andrete al checkout, dove qua dovrò inserire tutti i dati della mia carta di credito. Si può pagare con carta di credito, si può pagare con PayPal, scrivendogli direttamente a loro. Raga, si può pagare con qualsiasi cosa. E qui, dove c'è scritto codice sconto, basta scrivere LOLO10. Applicate e, come per magia, vi tolgono anche 3€. Quindi diventa 26,99€ con un pacchetto da 2.000 follower, 2.000 like e 10.000 visual di TikTok. Comunque adesso non vi faccio ovviamente vedere la mia carta di credito. Ci vediamo direttamente sul profilo. Io inserisco i dati nel frattempo, a tra poco. Ok, dopo aver capito quindi che la nostra strategia di fare le cose in modo gratuito ha fallito completamente, abbiamo acquistato il pacchetto viral. Adesso l'abbiamo appena comprato in questo esatto momento. Mi hanno appena tolto 33€ alla carta, quindi speriamo ne valga la pena. Nel frattempo però, dato che voglio parlare di calcio in quel profilo, fatemi sapere, prima cosa, che squadra ti fate qui sotto nei commenti. E seconda cosa, secondo voi, qual è la maglia di serie A più bella di quest'anno? No ragazzi, fermi tutti! No, 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 no! Guardate quanti like! Ragazzi, ve lo giuro, manco il tempo di un minuto e abbiamo già 29 notifiche e il video è arrivato a 3.000 visualizzazioni! Non ci credo. 30 notifiche, aggiorniamo. Raga, aggiorniamo e guardate. 48 mi piace! Fermi tutti! Signori, 52 notifiche! Sta funzionando! Cioè ragazzi, io riaggiorno perché stanno continuando ad arrivare notifiche all'infinito. Ma non ci voglio credere! Facciamo una cosa, ci vediamo direttamente tra pochissimo quando queste notifiche sono diventate tantissime perché voglio vedere proprio il numero intero gigante. Ragazzi, ragazzi, non è vero! Ragazzi, guardate le notifiche! Stanno esplodendo! Ragazzi, sta esplodendo il mio account! Siamo già a 538 follower, raga, e sono passati pochissimi minuti. Tra poco sbloccheremo la possibilità di fare live e iniziare a guadagnare con questo profilo. Perfetto, raga, altre notifiche. 613 follower. Ogni volta che aggiorno ci sono notifiche e follower in arrivo. Ma guardate che spettacolo! 630! Io adesso se aggiorno sono aumentati. 638! Ragazzi, ogni volta che aggiorno salgono. No, questa cosa è folle. Questa cosa è folle, raga. Stiamo per arrivare a 1000 follower. Perfetto, aggiorniamo la pagina. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardate quante notifiche! E sono arrivati tutti i follower, tutti i like. È arrivato tutto, ragazzi. Se ha funzionato ufficialmente adesso sì che posso finalmente provare a vendere sia le mie maglie da calcio, sia guadagnare facendo magari sponsorizzazioni, oppure tantissimi altri metodi per guadagnare magari facendo delle live. Comunque vi ricordo che trovate il link per Fast Media in descrizione e nel primo commento. E con il codice LOLO10 avrete anche il 10% di sconto su tutti gli acquisti che fate su Fast Media.